Nessuna aberrazione. Gli adelofagi, dal greco adelos phageis, che significa mangiatore di nascosto, erano gli appartenenti di una setta cristiana del secolo terzo, che rifiutavano di mangiare in presenza di altri. Com'è possibile una tale aberrazione del messaggio cristiano? Commento. Nessuna aberrazione, ma interpretazione del messaggio adeguata alle evoluzioni degli adelofagi.